Il mio corpo è quasi completamente indifferente a qualsiasi mia volontà di movimento. Il comando c'è, l'azione no. Ma se stasera sarò qui, è da dire a tutti voi che, a dispetto di un corpo ormai fermo, io ci sono. Insisto. E questa, in assoluto, è la mia più grande vittoria sulla SLA. Ciò che ho messo nelle pagine del mio libro è semplicemente la testimonianza della mia storia su questa terra, il mio essere vivo. Le parole prendono significati diversi a seconda di quanto ti sono vicine. Se, dieci anni fa, qualcuno mi avesse parlato della SLA, forse ci avrei pensato per qualche secondo, distrattamente, ma poi avrei trovato il modo di cambiare discorso, non per cattivare o misinteresse, semplicemente perché la cosa non mi toccava. Non sapevo cosa fosse. Nessuno mi aveva mai spiegato cosa significassi quella SLA, fino al giorno della diagnosi, fino a quando ha toccato me, e quando ho capito, quelle parole, sclerosi laterale e amiotropica. Si sono colpiccate nella mia carne, nella mia mente, nel mio cuore. La SLA è un io. A soli 26 anni, il mio nome non c'era più. Al suo posto, una sigla. E non solo per i medici. Per tutti, amici, parenti, semplici conoscenti, non ero più Antonio, ma il signor SLA. Eppure non mi ne faccio un croccio. Sempre meglio una sigla che un riesce, che io di compassione. Non c'è cosa peggiore che guardare di sbieco una persona e vederla murmurare. Povero guaglione. Io sono molto orgoglioso e, a discapito di un carattere non sempre facile da accettare, per chi mi sta più vicino. Questa caratteristica mi ha dato e mi sta dando una grande energia, per gestire i mille pensieri che, tutti i giorni, assilano la mia mente. Per me, più che per tutti voi, la vita è una sfida. Senza una sfida, non potrai mai sapere quali e quante sono le energie che tieni dentro di te e le tue reali capacità. Un giorno, grazie all'incontro con persone come Pietro e Susi, che voi conoscete come il giornalista Pietro Cuccaro e la dottoressa assolta Beatrice, decisi di mettere nero su bianco la mia storia, di mettermi a punto e di mostrare tutte le mie emozioni, comprese le fragilità che tendo sempre a nascondere e rivelare cose che avevo giunato di non dire più neanche a me stesso. Ed oggi, a distanza di anni, sono qui a presentare questo lavoro, frutto di tanta fatica. Ieri era un sogno, poi è diventata una sfida, ed oggi è una realtà. Vorrei che, adesso, tutti voi prendeste in mano il mio libro. Osservate con attenzione la copertina, che dice più di mille parole. Lasciatevi trasportare tal'emozione che scavena. Invece di matri in quell'ombra, che una volta era un uomo, dietro il filo spinato. Entrate nella sua mente e osservate la proiezione del suo animo intrammabile, che, con un milione, vuole evadere dalla prigione, che è in fondo il suo corpo. Dopo, solo dopo aver fatto queste riflessioni, decidete se acquistarlo o meno. A me non verrà in tasca niente. La sfida l'ho vinta, ma tutto il ricavato verrà devoluto in progetti di assistenza e di ricerca, affinché si possa un giorno servare questa malattia, che è forse una delle più terribili condanne che un uomo possa ricevere nella sua vita. Per questo motivo, incontinerò adattermi, per farsi che le istituzioni, gli organi dirigenziali sanitari, e che per esso possa ammigliare e fare in modo che si possa stare a stretto contatto con persone con quel tuo tipo di patologie. Forse io sono più fortunato perché ho molte persone vicino, dall'ex amministrazione a quella attuale. Ora per me è doveroso fare un ringraziamento pubblico ad Enrico, che mi ha dato la possibilità di poter comunicare e relazionarmi con il mondo, e poter scrivere questo testo, facendomi avere questo comunicatore. Un caro saluto e grazie di cuore per essere intervenuti. Grazie a tutti.